Vorremmo invitare, così per scattarci un pochino, i nostri amici danzatori, se sono armati di castagnetti, è quello che si rendono opportuno. Non si sente? Ah, ok. Abbiamo questa serata con una danza. Intrattenimento. Sì. E non capisco che tu, che succede, è quello che si spera, non si crede, non si crede. E non si crede, non si crede. Adoro, creador, amare lì. Amare l'amore, amare l'amore, ci si siano che amare lì. E ci si siano che amare lì. Se, lo dè tira, se. Tres e nini. Se, tira a pata, se. L'acromba, malca a scada, c'è un'unico con la vita, non si fermi 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 la vita. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.